Questo è solo l'inizio. Dottoressa Corti, questo è solo l'inizio. Signor Lamanna, questo è solo l'inizio. Quanto è vero Dio sacrificerò la mia vita per togliervi da quelle sedie? Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie? La mia vita sacrificherò per togliervi da quelle sedie? La mia vita 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 per togliervi da quelle sedie?